Una nuova esperienza professionale per l'artista umbertidese Monsignori che questa volta ha portato i suoi lavori a Firenze. È importantissimo per me aver installato il pesce di controcorrente nel liceo artistico di Porta Romana a Firenze perché ritengo che oggi l'Europa debba essere unita più che mai e debba andare controcorrente proprio nei confronti di chi con ideologie fasulle cerca di distruggere quella che è la nostra società europea, la nostra cultura. Ma qual è lo stato dell'arte ad oggi? Siamo, credo, la popolazione più ricca al mondo e quindi spetta anche a noi l'obbligo di preservarla. I rischi maggiori è che tante persone oggi purtroppo, potrei portare centinaia di esempi, non sono consapevoli e coscienti della cultura e dell'arte che si trovano intorno e che calpestano quotidianamente. Quindi l'arte oggi ha un ruolo fondamentale per riportare la stessa arte a contatto con le persone. Abbiamo chiesto inoltre i giovani e l'arte qual è la situazione riguardo anche a queste nuove leve. Beh, sicuramente sì, anche perché loro sono i mattoni presenti, i mattoni futuri di quelle che sarà la società che dovrà sopportare proprio questa cosa qui.